una devastante tromba d'aria si è abbattuta cinque giorni fa su porto cesareo ci troviamo in salento in regione puiglia provocando numerosi danni al porto turistico di ponente crolli nella parte alta di un pontile di muratura ma anche di muletti di recensione un pontile da darsena lungo ben 60 metri pensate che è stato letteralmente sollevato trascinato dal vento e dal mare in burrasca ha portato con sé tutte le barche ormeggiate di recente ci sono centinaia di barche ammassate alcune sul molo altre invece sono finite nell'area giochi a 300 metri di distanza circa la tromba d'aria ha colpito la zona in questione ha creato o meglio ha messo in ginocchio la città intera vento e acqua hanno spassato via tutto ciò che era a direzione di lei stessa e ovviamente detriti si sono ovviamente poi andate a riversare sulle strade sui madrirezzi marciapiedi speriamo bene che la situazione venga a essere risolta nel corso delle prossime ore anche se sono già passate cinque giorni un saluto cara a voi iscrivetevi al prossimo video da narratori italiani